Regione Toscana, il Consiglio regionale La variazione del Consiglio stanzia quasi 40 milioni di euro sull'annualità 2023 e tra le voci principali di intervento prevede 15 milioni di euro per l'attività di ripristino e bonifica ambientale della strada regionale 429 e nei siti coinvolti nell'inchiesta sul Cheu. La maggioranza specifica che si tratta di un intervento che realizza la Regione Toscana puoi agire in sede giudiziaria per il recupero di tali somme. Altra rimodulazione importante di circa 12 milioni di euro riguarda lo stanziamento per l'intervento alla bonifica della falda SINCIR di Massa Carrara. Oltre 8 milioni sono stanziati per interventi nel campo della cultura con progetti che riguardano teatri, musei e reti documentarie. Stanziati 2 milioni di euro per la costituzione della società Toscana Strade S.P.A. E tra gli interventi sul territorio da segnalare anche l'approvazione delle azioni volte alla definizione del percorso di realizzazione del secondo ponte sull'Arno nel comune di Figline incisa. E' una serie di interventi puntuali, interventi che o si risolvono con una legge o con una previsione specifica da parte della Regione, penso al teatro a Pistoia, penso a interventi sulle scuole, a Piazza al Serchio, a interventi sempre di predisposizione di tutto ciò che è stato provocato dal maltempo, la scuola della palestra, in questo caso a Monsulmano, che o si risolvono con un intervento ad hoc nella variazione di bilancio o non si affrontano. Ma in tutto questo c'è una visione di una Toscana che sta dando in questo momento, l'ha rivelato bene l'IRPET, un senso di prospettiva di sviluppo superiore a quello che avviene in Italia e che attraverso il supporto della Regione trova sicuramente una speranza per il futuro. Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro e che per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del CHEU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della Regione, così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro, che sono quelle relative alla bonifica dell'area SIN-SIR della provincia di Massacarrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesib. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche a interventi più puntuali come ad esempio i 2 milioni che vengono destinati al teatro della Pergola o il milione e mezzo che viene destinato al teatro Manzoni di Pistoia. Ci sono poi tutta una serie di interventi puntuali che riguardano la rete viaria, ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali, quindi in particolar modo dei comuni per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora luoghi della cultura. Un intervento quindi importante quello che viene realizzato perché non soltanto ha a riferimento opere di notevole rilievo che devono essere realizzate nel territorio regionale, ma perché soprattutto si pone in un'ottica di valorizzazione della Toscana diffusa e si pone a sostegno delle esigenze dei comuni del nostro territorio regionale per arrivare al completamento di tutta una serie di interventi che da tanti anni sono attesi. Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023, non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato, le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione, il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale. Su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEFRE e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. Nelle misure importanti abbiamo sottolineato degli interventi che vanno per esempio a favore di alcuni comuni del territorio, iniziative che io ho sollecitato, se penso anche a interventi nei comuni di San Gimignano o non solo, o risorse che invece vanno a sostegno dell'impiantistica sportiva quando noi avevamo chiesto di poter sostenere maggiori comuni rispetto agli interventi e ai bandi che erano stati presentati su uno di quei settori che noi abbiamo fatto una battaglia politica e questo ho visto è stato accolto dal nostro governatore e dalla maggioranza. Questa era presentata come una variazione di bilancio di poca valenza, piccola, in realtà non sposta grandi patrimoni, però ci sono due criticità enormi a mio modo di vedere che è la prima il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in regione toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa giunta. Nel documento economico e finanziario del 2023 all'attrazione di fondi di investimento in Toscana si dedica a malapena una pagina e mezzo e questo arriva in controtendenza con i dati che in questi giorni ci dicono, dati da Banca Italia, non da Fratelli Italia, ci mancherebbe altro, ci dicono che la regione toscana è la regione che a fronte di un'Italia che torna a crescere, che torna competitiva, che è il paese che più cresce in Europa, la Toscana è la regione italiana che cresce meno, è l'unica regione italiana che non ha ancora colmato i quattro punti di PIL persi con la pandemia, tutte le altre regioni sono tornate in pari rispetto al 2019, la Toscana è l'unica regione attualmente in regressione. Attrarre nuovi fondi di investimento in Toscana è un qualcosa di fondamentale. Documento economico e finanziario di questa giunta, una pagina e mezzo dedicata. Turismo e commercio, non c'è una, parola una, spesa per il turismo congressuale. Nei giorni in cui uno degli enti principali, degli enti fieristici principali della Toscana, Firenze Fiera, partecipato alla regione toscana finisce su tutte le prime pagine dei giornali con un buco di bilancio da 26 milioni, con qualcuno che dice che è un ente ormai tecnicamente morto, tecnicamente fallito, con i soci che si rifiutano di mettere nuovo capitale in azienda, la regione toscana non spende una parola sul turismo congressuale. Quindi una giunta che governa una regione, che governa la regione che cresce meno in Italia, dove negli ultimi dieci anni abbiamo perso il 18% di imprenditoria giovanile, non spende una parola né per il turismo congressuale, né per il rilancio del commercio, né per l'attrattività in Toscana di fondi di investimento. È una giunta senza idee, è una giunta morta, che fa una variazione di bilancio in cui si continuano a stanziare i 100 mila euro per il e altro, i 50 mila euro per la provincia di Tizio, per la strada vicinale di Caio, per il belvedere di Sempronio, ma non ha una visione di insieme della regione che possa tornare a far crescere la Toscana. Una variazione di bilancio di 40 milioni di euro, considerando che il bilancio complessivo della regione sui 13 miliardi naturalmente non poteva essere qualcosa di rilevante. In questo caso, come in altri, si tratta di una semplice spartizione di risorse, in alcuni casi anche non particolarmente eclatanti per i vari comuni e soprattutto in iniziative che tra di loro non sono collegate e danno chiaramente l'idea di come la regione toscana, più volte l'abbiamo denunciato, non abbia una visione per il futuro che non vada al di là delle tornate elettorali, anche dei comuni su cui dare contributi, non abbia appunto visione, non abbia una programmazione, non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse. Il problema più grande che stanno affrontando le famiglie adesso è il caro mutui, il caro affitti, tutte le questioni che riguardano l'energia, l'aumento dei prezzi e l'inflazione. La regione toscana, sia per le famiglie che per le imprese, non sta prevedendo niente, soltanto una riorganizzazione delle partecipate, perché riordino non se ne può parlare, che prevederà dei piedaggi in futuro sulla FIPILI, che prevederà che FIDI Toscana venga smantellata e adesso nessuno possa dare il sostegno alle imprese e al microcredito che dava precedentemente e altre iniziative che però non sono neanche salvifiche per quegli enti, penso alle terme di Montecatini, che invece le attendono da tempo. Quindi fondamentalmente è una tempesta in un bicchier d'acqua con veramente degli interventi piccoli legati a quella situazione locale o all'altra, legati diciamo a interventi ad personam o ad comunem fondamentalmente. È una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati al mare da due anni e mezzo, uno schema che vede interventi totalmente disomogenei, uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali, cosa che non contestiamo tanto nel merito perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni, soprattutto di questi tempi e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo perché ciò che emerge invece da questo tipo di impostazione su questi atti è che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali. Ne abbiamo avuto un esempio oggi su due interventi in particolare, non mi spiego ancora come mai non si sia stato in grado di trovare delle risorse per un asilo nido che nel piccolissimo comune di Londra, pur parlando di aree interne di Toscana diffusa, che è un asilo nido al quale mancano circa 200.000 euro per essere messo a norma sull'antisismica. Così come non mi spiego come su un'opera importante come quello che è il secondo ponte sul Resco nella zona del comune di Reggello non si sia in grado, non si sia voluto in qualche modo mettere a disposizione delle risorse ulteriori per sbloccare quel progetto. Sono tutti interventi che riguardano le comunità, che riguardano i comuni, sui quali i cittadini pongono l'attenzione perché riguardano la vivibilità di quei comuni. Oggi purtroppo si danno ancora risposta a macchia di lopardo ma non in modo organico e soprattutto non su interventi che in qualche modo qualifichino come caratterizzanti e come urgenti proprio per quelle comunità. Siamo soddisfatti invece del riconoscimento quantomeno dell'impegno sul secondo ponte, sull'Arno nel comune di Figline, un'opera che finalmente viene inserita tra quelle strategiche per la regione Toscana dopo che per decenni anche qui siamo di fronte a un'opera che pur richiesta, pur diciamo conclamata anche nell'evidenza, nella necessità di dare uno suogo al traffico in quella zona, oggi finalmente la regione si impegna a sostenerne ancora la realizzazione. Staremo a vedere, sono 30 anni che aspettiamo opere di questo tipo in Val D'Arno, ancora oggi ripeto andiamo a macchia di leopardo senza però diciamo avere interventi organici. La sporadicità certamente non aiuta. Sì sicuramente vi inizierei la parte delle partecipate, c'è un DEF che non tocca il tema di Toscana Strada, un tema molto dibattuto negli ultimi mesi che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale. Non è ancora chiaro la finalità e la fine che farà fedi Toscana perché la regione Toscana intende acquisire il 100% delle quote di Sici però ci risulta che ci sia un'altra regione copartecipe delle quote che è la regione Umbria che non sia in questo momento intenzionata a vendere. Non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza Toscana. Però voglio anche evidenziare da ex Presidente della Commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata e appunto il CHEU che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. Ci siamo arrivati sicuramente con un ritardo però comunque ci siamo arrivati con questa variazione di bilancio e è comunque una soddisfazione dopo averlo chiesto e richiesto da ormai tantissimo tempo. Purtroppo così non è per tutte quelle aree convolte nell'inchiesta CHEU invece che riguardano i comuni su cui ancora si sosseguono ricorsi al TAR. Non possiamo compensare che comuni anche molto piccoli che sono stati coinvolti in questa inchiesta abbiano delle risorse così importanti per poter bonificare quelle ore. Regione Toscana il Consiglio regionale